ciao bambini come state allora oggi vi presento un'attività nuova che potete produrre anche a casa basta prendere tre bottigliette con un tappo abbastanza grande e proviamo a svitare e riapitare il tappo vi faccio vedere mi raccomando tagliate soltanto la parte in alto non serve l'intera bottiglietta e raccoggiate su un ripieno ok abbiamo svitato i tappi e adesso invece richiudiamo la bottiglietta mi è piaciuto? ciao bambini a presto